Nessuna trattativa, nessuna notizia attendibile sulla sorte di padre Paolo Dall'Olio, fondatore del monastero di Marmusa, tessitore del dialogo con i musulmani. Questo luogo mi è piaciuto subito appena l'ho incontrato nel 1982, ero studente di arabo e di studi islamici, nell'orizzonte del desiderio di costruire l'armonia islamo-cristiana. E' falso che ci sarebbero negoziati per liberare alcuni ostaggi, fra cui padre Paolo, in cambio di un salvacondotto per i sequestratori ISIS, a spegnere gli entusiasmi dopo una giornata col fiato sospeso, l'osservatorio siriano per i diritti umani non smentisce l'ipotesi che il gesuita rapito in Siria nel 2013 sia vivo, ma solo che non ci sono trattative per la sua liberazione. A scriverlo era stato il Times citando fonti kurde siriane, le stesse che però in giornata negano di possedere informazioni, tuttavia la speranza che padre Paolo sia vivo non è del tutto sopita. Speranza, condivisa solo la settimana scorsa dai parenti di padre Paolo con Papa Francesco che li ha ricevuti, alla preghiera, come riferito dalla sala stampa vaticana, invita il nunzio in Siria e il cardinal Zenari che ricorda da oltre cinque anni nessuna pista concreta.